Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, in questo video parliamo di Edoardo Donamaria, ma prima cliccate su iscriviti per essere sempre aggiornati. Edoardo Donamaria oggi è presente al matrimonio del suo caro amico e collega Paolo Ciavarro e della sua ex cognata Clizia Incorvaia. Qui, dopo aver tenuto nascosta la sua nuova fiamma, esce allo scoperto e pubblica una foto con la ragazza in questione. Insieme, per il matrimonio dei ciavarrini, hanno scattato un selfie in ascensore. La notizia era già attrapelata da una ragazza e fonte certa sui social ed ecco che abbiamo la conferma. Edoardo Donamaria l'ha mostrata a tutti così. Cosa ne pensate del suo nuovo amore? Vi piace? Sul web ci si divide in due fazioni, come sempre, da una parte chi lo sostiene e dall'altra chi critica il fatto di non averlo comunicato prima. Voi da che parte state? Non esitate a commentare, noi non vediamo l'ora di leggere le vostre idee e pensieri. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se vi è piaciuto il video di lasciare un bel like e condividerlo con i vostri amici e parenti. Grazie per averci seguito e a presto! Grazie per aver guardato il video!